questi discipuliti io volevo abbassare la tua e salvare a cristo ma che arriva in tentazione ad ora di femmela vinta di ho feccato un pizzi di orna ma perché che mi vuole di vedere ammira zitto che dice che non lo capisco qui l'animale senza offesa dice che per tre giorni ha feccato avete capito cosa significa feccato? atti in pure per tre giorni consecutivi quindi non ha potuto salvare il cristo dal giuda come andate a scendere la bottana con gli uccini? dove sta questa bottana? non mi capisce chiedeteglielo voi animale dove sta questa bottana? scendendo le ragioni è uguale c'è una tiziera, una casa e la gazzina è già fuori bozzata vedeva 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 ci vedeva tutto cosa io avevo fatto un scufoso lordo, un grasciato, un zavato ci vedevano tutto cosa scalzate le signore ci vedeva magari uffè io ero tutto chino di pila che pareva un lupo bannaro che appena arrivava magari mi spagnate ha feccato con me la pecciglione pecciglione ha feccato con me un animale sarebbe stato più gente là e più pulita mi aveva l'ordato scalzate le signore tutta la casa la mia casa scalzate le signore mi ha abbrassata lì c'è una pausa solo per cagare qua fuori qua che ogni pezzo di strunzo scalzate le signore che vengono un cieco che lo feto se ne fuori i bambini a dire se scandano se spagnano se ne fuori se schifiano i bambini se schifiano magari i gentilissima signora vi ringraziamo e ce ne andiamo signor questore